Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha definito Donald Trump un folle, e ha aggiunto che il presidente statunitense pagherà caro per le sue minacce al paese asitico. Kim ha accusato Trump di non essere adeguato per ricoprire il ruolo di comandante in capo di un paese. Il capo del regime nordcoreano ha descritto il presidente americano come una canaglia e un bandito, desideroso di giocare con il fuoco. Le parole di Kim, arrivano in risposta al bellicoso discorso fatto da Trump sulla Corea del Nord all'Assemblea Generale dell'ONU. Il discorso del presidente americano hanno convinto Kim, riferisce l'Agenzia Nazionale Nordcoreana, che il percorso da me intrapreso è corretto e lo seguirò fino alla fine. Il dittatore asiatico ha aggiunto di stare pensando intensamente alla risposta da dare. In ogni caso Trump pagherà caro per il suo discorso in cui ha minacciato la totale distruzione della Corea del Nord.